ok ragazzi siamo qua lo so che non è un buon metodo scusate è che si è interrotta la live ok ragazzi lo so che non vedrete anche molto bene ok non attraversare il ponte scusate ragazzi se non vedrete al massimo scusate anche per la live via come nemici davanti dove anche lì ok per departed si poteva parare Magari avessi loser Ok devo pensare un attimo Sì sì pensa veloce zio C'è un tubo di trasporto più quanti potrebbe funzionare Dove questo intendi? Intende questo? Vabbè raga A meno vedrete il L'evento sotto forma di video Ecco quel tubo di trasporto vi porterò oltre le pattuglie Quale? Questo? Ah questo Non è un tubo è un passaggio forse Dobbiamo farti vicinale Ok Ah questo tubo ok allora sì Non è per materia organica Spero non sia un problema No no certo che no Ma si vede Sbaglio o si vedeva l'isola? Boh non lo so No ah no si vedeva nove madre Scusate ancora per la live che si Che si è interrotta però raga non ci posso fare niente Come ho già detto prima A meno vedrete Vedete l'evento sotto forma di video E il camera Più avanti c'è un altro tubo di trasporto Dovrò invertire il flusso d'aria Un secondo Va bene Basta che non mi laghi tanto Ok Scusate eh mi sto sistemando i capelli Ok Un attimo Sì sì va bene Devo solamente Mi sta rimandando indietro Ok Cosa fai? Va bene No non è a gare gioco Non è a gare Mamma mia per ora l'evento è bellissimo raga Va bene Bombe in posizione Adesso dobbiamo guardare Raga Nessù c'è un'esplosione enorme Magari avessi un computer adesso Voi Allora io sto guardando e State guardando anche voi bene Perché vedo anch'io La visuale del telefono Dove sto registrando Zaini vicini Che senso Ok Inizio la sequenza di armamento Vai 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 Facciamo esplodere tutto C'è il timer No Aia Segnale interrotto Sarò qualcosa Non morite Non morite Eh Facile a dirsi Questo È impossibile Oh mio dio Il cubo No No rega il cubo Pensavamo fosse sparito per sempre Rega il cubo Il cubo Il cubo Kevin Oh mio dio Il cubo No avevano ragione Licker Il cubo È ritornato Mamma mia no 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 Io voglio la season oscura adesso Che bello Ma poi la colonna sonora Rega Ho fatto qualcosa Ok Dobbiamo agire con forza E all'aspetto È vero No rega Che figlio Bello Devo armare i vostri zai Va bene Sono morte delle persone Tenetevi forte Ma il cubo Cubo Ma il cubo È diventato Brutto La sequenza di armamento È a posto Da 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 Dai stai Siamo quasi Da 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 Sì No scusate Ok Rega scusate Mi diceva Memoria piena Dovo anche editare il video Adesso Cosa sta succedendo Ok taglio il video Quando c'è la parte interessante Che rega Ci sta Ci sta Prendo da qualche parte Non so se è da slon O qualcos'altro Boh Cos'è Ma sono dei mini cubi Boh Non lo so Il mio telefono vibra Cos'è? Ah Un apitore Salve 26 secondi Alle bombe Perché ci sono Perché ci sono dei mini Kevin Salve 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 La slon La slon Scusate È che non ho nemmeno più memoria Il telefono Comunque è appena avvenuta Un'esplosione È appena avvenuta Un'esplosione No La gente Spettro No Ma No raga Che figo La madre Madre No raga No Che figo Mi sa che siano leggermente morti Non lo so No Non ci credo È finito così No Scherzate È finito Raga Stagione 8 Inizio fra 12 ore 42 minuti E 35 secondi Oh mio dio Non pensavo che sarebbe finita così Pensavo che l'evento durasse Circa 15 minuti Ma invece è durato Un po' meno Credo Non lo so Quando monterò il video Ci guarderò Scusate per la live Che si è interrotta Però ragazzi Non ci posso far niente E Ragazzi Mi spiace veramente Però Come ho detto Adesso Non posso farci niente Perché Il gioco ha laggato E E vabbè Doveva succedere La prossima volta Sarò anche più preparato Per Per la live Cioè Per la Per la Come si chiama? Per l'alternativa Della live Ok Sì scusate Per l'alternativa E Perché Semplicemente Poi non l'ha fatta Anche perché Mi diceva Che dovevano passare Prima 24 ore E io dato che Avevo già il mio account Pensavo che Quelle 24 ore Non Non servì Cioè Non ci fossero invece Purtroppo sì Vabbè Doveva andare così Ragazzi Io vi saluto Scusate ancora Per la live Ma almeno Ho salvato un po' Sono riuscito A registrare Un pochino Dell'evento E Niente ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao Alla prossima A domani Per la season 8 Ovviamente Farò Un video Non so Se da qui O Se da Se da Se Dall'applicazione Di questo telefono Non lo so Ciao